il funambolo il funambolo lo vedete? come no? vedete? non c'è non c'è non c'è il funambolo e allora se non c'è un funambolo mi chiedo perché un funambolo deve andare sempre da una parte all'altra quando anche si possono invernire o scambiare giusto? perché un altro fa quello che fa? perché rischia tutti i giorni la sua vita la sua vita che è già di per sé abbastanza precaria no? perché fa questa cosa? perché? guarda hai visto? ma allora bravi bravissimi bravissimi qualcuno di voi non sappiamo chi è riuscito a immaginare un funambolo e allora direi che si può cominciare eccolo sta per entrare signori sta per cominciare andiamo grazie 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 grazie